Salve a tutti, qui il vostro Mr. Volume e quest'oggi vi voglio parlare di un film del 1967 per la regia del grandissimo Freddy Francis e sto parlando di Il Giardino delle Torture in questa bellissima edizione sinister che comprende sia la versione in DVD che quella in Blu-ray che oltretutto, oltre alla versione integrale, ha anche la versione cinematografica inglese dei tempi. Che dire, questo è un film a cui io sono affezionatissimo da sempre, ricordo ancora una notte in cui lo vedi su una rete privata quando ancora guardavo la TV, ecco, e ricordo ancora che avrò avuto 12-13 anni, ero già innamorato follemente dell'horror vecchia scuola, quello della Hammer soprattutto. Il film era iniziato da poco e venne preso subito dall'ambientazione fantastica e da lì me ne innamorai follemente. Ebbi veramente un sacco di problemi a recuperarlo perché ormai era fuori catalogo da anni, i reseller lo vendevano a prezzi spropositati per quello che era un semplice DVD, ma fortunatamente, se non sbaglio, l'anno scorso è uscita questa versione e oggi, riguardandolo per l'ennesima volta, mi è venuta voglia di parlarne. Allora, è un film antologico e io adoro i film antologici, soprattutto quando c'entrano con l'horror, che nell'episodio, diciamo, collante di tutti e quattro i cortometraggi di cui è composto è ambientato alle vecchie giostre anni 50-60, stile Coney Island, per capirci, in cui Bargis Meredith è l'anfitrione che possiede il tendone dedicato, diciamo, a mostri e paure, ecco, e fa pagare un biglietto ai protagonisti appunto del film per mostrare loro quelle che sono le loro paure più grandi. Ovviamente tutti ci entrano ridendo, ma poi usciranno dal tendone un po' provati dall'esperienza, ecco. Da lì partiranno degli episodi appunto per ognuno dei protagonisti, tra i quali c'è anche Jack Palance, nel film è presente anche il mito assoluto Peter Cushing, e niente, questi quattro episodi a parer mio hanno già dei soggetti interessantissimi che andrò a spiegarvi cercando di non fare assolutamente spoiler, ecco, ma penso che anche solo dicendo i soggetti potrò attirare la vostra attenzione, ecco. Allora, i mini episodi appunto sono quattro, uno è ambientato nella Hollywood dei Divi, queste grandi feste dove si incontravano produttori, registi, attori della vecchia Hollywood, e il tutto poi avrà dei riscontri assolutamente orrorifici e impensabili, ecco, quasi fantascientifici. Poi un altro episodio riguarda una ragazza che si innamora di un musicista che però è ossessionato letteralmente dal suo pianoforte, da lì poi si arriverà a sviluppare una tragedia assurda. Un altro episodio si parlerà della morbosità che ha un nipote verso l'eredità di uno zio malato, e per ultimo l'episodio che io amo assolutamente di più, come protagonisti appunto Jack Palance e Peter Cushing, e parla appunto di due collezionisti letteralmente ossessionati da Edgar Allan Poe, e sarà ambientato in queste case vittoriane ricche di libri rilegati e oggetti introvabili, fino ad arrivare ad un finale tanto inaspettato e impossibile quanto è bello l'episodio stesso. Non vi voglio dire altro se non consigliarvi assolutamente di recuperare questo film, è un must have, probabilmente fino a poco tempo fa si trovava anche gratuitamente qua in chiaro su YouTube, e niente, io lo adoro, è uno dei miei film preferiti di sempre, e questo film lo voglio dedicare all'amore che provò nei suoi confronti, e spero così di riuscire a fare anche un bel regalo a chiunque sia stato incuriosito da questa mia recensione. Il giardino delle torture, Torture Garden del 1967, regia di Freddy Francis. Mister Volume vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video.